Bruttissimo incidente stradale per un uomo a Cervignano del Friuli che nella tarda mattinata di martedì 11 giugno ha sbandato con la sua autovettura e per cause ancora in fase di accertamento ha finito la sua corsa contro un albero. La chiamata è arrivata alla Sores poco dopo le 13 e il personale è stato subito allertato portandosi sul luogo dell'incidente a Via Caillou. Il veicolo era praticamente distrutto mentre il conducente è apparso subito in gravi condizioni. La Sores ha inviato sul posto l'automedica, il mezzo di soccorso avanzato e l'elisoccorso che ha caricato il malcapitato dopo che lo stesso è stato intubato sul posto. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri del distaccamento di Palmanova che hanno ripristinato la normale viabilità sul posto.